Raffaele Cacciaboti, la sua rinuncia come presidente della Commissione Urbanistica è un chiaro segnale, è un segnale, un grido di allarme che lei ha lanciato all'interno del suo partito La Lega. Che succede? Sì, io ho rinunciato alla presidenza della Commissione Urbanistica perché c'è un problema all'interno del partito, del nostro partito che è La Lega. La Lega è un problema che abbiamo, sia io che la collega e amica Elisa Pepe più volte manifestato al nostro partito, ai responsabili, agli organi competenti del nostro partito. Ad oggi, ripeto, c'è un problema politico tutto interno alla Lega. Quindi per una questione proprio di rispetto perché poi all'interno di un partito, qualsiasi partito, ci sono delle regole e gli incarichi non sono degli incarichi ad persona, ma sono degli incarichi che sono in quota a partiti, liste civiche o quello che sia. Quindi in questo momento, posto che c'è un problema politico importante, io ho preferito rinunciare alla presidenza della Commissione Urbanistica in attesa che finalmente venga chiarito e venga finalmente definito una volta per tutte e quello che sono, voglio dire, alcuni aspetti che da troppo tempo rimangono inascoltati. Entrando nel dettaglio di questi aspetti, c'è bisogno di maggiore condivisione nelle scelte? Sì, c'è bisogno di maggiore condivisione nelle scelte e soprattutto c'è bisogno di rispetto per il gruppo consigliare. Un gruppo consigliare che, ricordo, è stato democraticamente eletto dai cittadini, che è stato democraticamente eletto dal popolo. Quindi è chiaro che noi ci sentiamo, voglio dire, un po' esclusi da quelle che sono alcune decisioni che sono state prese fino ad oggi. Per adesso un grido d'allarme, può esserci qualche ulteriore sviluppo? Cacciapoti e Pepe possono uscire dalla Lega? Ma Cacciapoti e Pepe si sono candidati all'interno della Lega e sono stati eletti all'interno della Lega. Vogliamo continuare a fare politica all'interno di quello che è oggi la nostra casa, il nostro partito? Ripeto, è chiaro che ci sono delle problematiche importanti. Da troppo tempo rimaste inascoltate, quindi che cosa succederà? Non lo so. Chiediamo che venga riadrizzato subito questa barca, altrimenti poi ognuno si assumerà le conseguenze e le responsabilità delle azioni che si compiono. Grazie. 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 Grazie.